un po di matematica un po di matematica fa sempre fa sempre bene perché ovviamente è importantissima in quanto abbiamo nella vita di tutti i giorni abbiamo bisogno di sapere come sommare due numeri dividere due numeri moltiplicarli ad esempio e conoscere quei termini importanti che ci servono per parlare di matematica parlare di numeri e di tutto quello che riguarda appunto l'argomento allora andiamo subito vi farò un breve elenco sono poche slide per capire per imparare insieme quali sono i termini utilizzati nella matematica semplici ovviamente non andiamo a fare cose complicate ma ci servono per sapere che ad esempio le quattro operazioni si chiamano somma quelle col segno più sottrazione col segno meno moltiplicazione col segno per e divisione con il simbolo di diviso allora la somma o la dizione in questo caso ci permette di sommare il verbo sommare o addizionare anche se meno usato due valori numerici come 2 più 2 uguale 4 oppure la sottrazione che ci permette di sottrarre quindi 6 meno 4 uguale 2 oppure ci permette l'operazione di moltiplicazione di moltiplicare due valori numerici quindi 4 per 2 uguale 8 oppure di dividere 10 diviso 2 uguale 5 e questi diciamo sono molto semplici perché più per più meno anzi per metterli in ordine per diviso andiamo alla seconda slide dove le cose si complicano leggermente allora il primo la prima operazione è la potenza cioè l'esponente per rendere tutto più semplice 2 elevato 2 con esponente 2 il risultato è 42 con esponente 3 il risultato è 8 perché perché in questo caso si fa 2 moltiplicato per se stesso due volte quindi 2 per 2 il risultato è 42 invece moltiplicato per se stesso tre volte il risultato è 8 quindi 2 per 24 per 2 ancora una volta 8 quindi la potenza è conoscerete la matematica magari ma non in italiano la potenza è ovviamente la moltiplicazione per se stesso dello stesso valore per quante volte viene messo in esponente la radice quadrata è il contrario e cioè è il contrario della potenza la radice quadrata o cubica in quel caso questo caso è il contrario perché dovrò trovare quel valore che moltiplicato per se stesso mi dà la il valore che ho sotto radice quadrata in questo caso quindi la radice quadrata di 9 quadrata perché vedete che c'è il 2 quindi la radice quadrata di 9 è 3 perché 3 per 3 quindi 3 2 volte fa 9 e la radice cubica quindi la radice cubica questo ovviamente il simbolo di radice la radice cubica di 27 è 3 perché 3 per 3 per 3 3 per 3 fa 9 e 9 per 3 fa fa vedete che dico anche fa oltre che a uguale è uguale è uguale a 27 quindi radice cubica di 27 è 3 la percentuale molto semplice molto nota perché è un simbolo abbastanza noto il per cento in italiano si dice per cento 4 per 100 di 200 è 8 quindi prelevandone solo il 4 per cento quindi 200 diviso 100 per 4 ecco sarebbe il gioco da l'operazione diciamo da da svolgere 200 diviso 100 per 4 il risultato è 8 200 diviso 100 per 1 il risultato era 2 ok quindi il per cento è il valore è il simbolo anzi che riesce che mi permette mi restituisce anzi la percentuale di un valore la frazione invece è il numero frazionario cioè il numero diviso 1 diviso 2 in questo caso il simbolo è 1 barra 2 perché questo è simbolo di frazione normalmente lo si vede scritto nella matematica diciamolo si vede scritto un numero sotto l'altro quindi uno con la frazione orizzontale 2 in questo caso il simbolo non c'era sul computer ho dovuto scrivere 1 barra 2 quindi un la frazione in questo caso si legge un mezzo oppure l'altra si legge tre quarti oppure l'altra ancora si legge due terzi oppure l'altra ancora che si legge un po male ma è cinque sesti ecco questa si legge un pochino male cinque sesti quindi bisogna mettere il numero in ordinale quello sottostante quindi mezzi quarti terzi sesti ovviamente andatevi a seguire la lezione sui numeri cardinali sui numeri ordinali ed è semplice perché quello sopra si mette in valore cardinale quello sottostante si mette in valore ordine in termine ordinale quindi un mezzo di nuovo tre quarti due terzi cinque sesti nell'altra slide abbiamo le diseguaglianze le uguaglianze le diseguaglianze le uguaglianze hanno l'uguale si sa sono come le operazioni normali in questo caso le diseguaglianze ci stanno semplicemente dicendo che 3 è maggiore quindi questo simbolo è il simbolo di maggiore di 2 quindi 3 è più grande di 2 maggiore di 2 oppure allo stesso modo 3 è minore di 4 quindi 3 è inferiore a 4 3 minore di 4 i numeri decimali sono quei numeri che vanno a toccare i decimi dell'unità quindi la mia unità potrebbe essere 1 o potrebbe essere 0 potrebbe essere 21 o 3 i numeri decimali sono quelli che stanno dopo la virgola dell'unità quindi 0,5 quindi vuol dire che metà un valore quindi metà uno un mezzo 0,5 21,8 3,14 ecco a differenza di altre lingue o di altre nazioni in italia si mette la virgola per separare le unità dalle decimali o dai centesimi eccetera eccetera ma sempre la virgola e si mette talvolta se si vuole fare ordine il punto per separare le migliaia quindi se devo dire mille scriverò 1.000 virgola sempre per separare i decimali nelle operazioni nelle espressioni si in italiano matematiche si è soliti anche usare le parentesi le parentesi tonde sono le prime parentesi ad essere eseguite nel calcolo quindi nelle operazioni le parentesi quadre sono subito dopo e le parentesi graffe ancora dopo quindi parentesi tonda parentesi quadra e parentesi graffa e per ultima cosa non meno non meno da scartare quindi sempre comunque interessante poi ovviamente gli argomenti sulla matematica sarebbero veramente tanti questa è una lezione proprio base per insegnarvi i valori e le operazioni essenziali però non meno da scartare importante è la serie dei numeri primi cosa sono i numeri primi allora iniziamo arrivare fino al 13 1 2 3 5 7 11 13 e ovviamente come tutti i numeri ovviamente sono infiniti che cos'è un numero primo un numero primo è un numero che può essere diviso solo per uno o per se stesso quindi immaginiamo l'8 l'8 non è presente come vedete nei numeri primi perché è divisibile per 2 quindi 8 diviso 2 fa 4 è divisibile ovviamente per 4 8 diviso 4 fa 2 ma ad esempio il 7 non è divisibile per nessun numero tranne che per 1 ovviamente perché 7 diviso 1 è 7 o per se stesso perché 7 diviso 7 è 1 quindi un numero primo è un numero che non è divisibile per nessun altro numero 13 ad esempio poi ce ne sono molti altri ovviamente come dicevo sono infiniti c'è ovviamente se cercate su internet trovate la serie dei numeri primi anche solo per curiosità però l'ultimo che abbiamo qui in elenco è il 13 e non posso dividere il 13 per nessun altro numero tranne che per 1 o per 13 stesso quindi 1 2 3 5 7 11 13 ci sarà forse il 17 19 adesso non ricordo bene perché non sono da studiare ovviamente basta capirne il principio che è comunque interessante e ovviamente ci sono tanti giochi matematici legati proprio alla serie dei numeri primi bene lezione semplice immediata e senza troppi requisiti matematici come potrebbe come potrebbe aspettarsi chi legge il titolo della lezione spero che vi sia stata utile vi ringrazio per la vostra attenzione vi chiedo un like sul canale o sul o sul blog di itapertutti.blogspot.com come vedete facebook twitter e youtube ovviamente siamo presenti vi ringrazio per la vostra attenzione e lo ripeto sempre quando avete proposte noi siamo a vostra disposizione per nuove lezioni di italiano per tutti ciao 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 ciao